Hanno spaccato il vetro della porta ad ingresso del bar, per poi, non riuscendo ad entrare, andarsene a mani vuote. È accaduto questa notte, intorno alle 2, alla bocciofila alla combattente di Fano, quando qualcuno, con l'intento di rubare nel bar della struttura, ha ripetutamente colpito la porta in vetro con una grossa pietra, senza riuscire a sfondarla, per poi scappare dopo averla anche presa a calci, come testimoniano le impronte vicino alla serratura. Stanotte è successo che sono arrivati, come vedete c'è questo vetro qui frantumato, per fortuna non l'hanno sfondato e non sono riusciti ad entrare, e non ha suonato neanche l'allarme, ma il danno grosso è quello che vedete, per noi è un grosso danno. È successo stanotte, ci hanno telefonato quelli della notturna che fanno il controllo verso le 2. A quanto ammontano i danni? Un vetro doppio così, 400-500 euro all'anta che ci viene a costare, beh, questo è che non è la prima volta, è questa la terza volta che ci succede con il vetro. Abbiamo avuto anche altri furti che sono passati da altre porte, ma abbiamo per fortuna fatto delle spese con delle serrature un po' più sicure, abbiamo messo altri tre e non riescono più ad entrare, e adesso cercano di fare questo lavoro qua, senza successo, ma per noi è un danno. Il bar è chiuso, non c'è consumo di bar, quindi non ci sono entrate per quanto erano poche anche prima, però per noi, per il sostentamento di questa società, insomma, ci faceva un po' comodo, per poter continuare a tirare avanti, sempre con grande difficoltà, però, insomma, in qualche modo si tira avanti. E adesso con questi danni qui ci siamo un po' scocciati, insomma, siamo un po' stanchi di questa situazione. Adesso non so cosa vogliamo fare, decideremo un prossimo consiglio, se mettere delle telecamere, non lo so, fare un cancello, non lo so, vediamo, non lo so, vedremo. Gli introiti non ci sono, introiti per modo di dire, perché noi, i nostri introiti sono solo per sopravvivere, non è che abbiamo, non ci guadagna niente, è solo per tenere in piedi questa grande società, ma una grande società veramente, una delle più storiche, se non nelle Marche, ma in tutta Italia, e si piacerebbe continuare a tirarla avanti con grande voglia, noi ce ne mettiamo tante della voglia, però quando succedono queste cose qua, un po' tenteniamo, però tiriamo avanti, tiriamo duro.